Lei è Cinzia Battaglia, consulente ambientale e guida del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Cinzia, già da sei anni, è l'anima della casa del Parco di Rio nell'Elba, in località Lavatoi. Non è soltanto un punto di accoglienza e informazione per i turisti, che negli anni, lo dicono i numeri, sono cresciuti. È molto di più. Un vero e proprio centro di educazione ambientale, con attività rivolte ad adulti e studenti, laboratori di archeologia, presentazioni di libri, incontri sull'ambiente. Questo era il primo vecchio lavatoio pubblico. Poi diventò stazione di pompaggio, perché ovviamente qui c'era la fonte dei canali che dà acqua a tutto il territorio riese, e era in uno stato di abbandono. Nata da un progetto sperimentale, la casa del Parco a Rio nell'Elba è stata una scommessa per promuovere un territorio poco conosciuto. Io ho iniziato a fare la guida, non venivo di qua, andavo di là, anche con i gruppi, perché di qui si conosceva gran poco. È stata veramente una mia grande scommessa e vedo che, grazie poi anche alla pulitura dei sentieri, eccetera, piano piano si sta migliorando. Con la stagione alle porte, la casa del Parco a Rio nell'Elba si prepara diversi appuntamenti per i turisti. Faremo delle iniziative volte a promuovere il territorio, con delle serate tematiche, con, ad esempio, la serata del tramonto o anche faremo una serata dedicata alle stelle.